Entra nel vivo la campagna vaccinale anti-covid. Da lunedì 4 gennaio in Liguria sono previste 2.000 somministrazioni al giorno, suddivise nei 14 punti attivati sul territorio regionale. Per fare un raffronto, nella settimana appena trascorsa, con l'inizio delle prime iniezioni, erano state inoculate 2.126 dosi. Il piano regionale prevede 62.000 vaccinazioni nella prima fase, quella che riguarda il personale medico a tutti i livelli e gli ospiti dell'RSA. Quindi, se sarà rispettata la tabella di marcia, si dovrebbe terminare presumibilmente tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Con 2.000 rosi al giorno, le 62.000 iniezioni dovrebbero essere raggiunte il 4 febbraio. Però, il vaccino di Pfizer-BioNTech, fino ad ora l'unico approvato nell'Unione Europea, prevede due somministrazioni a distanza di circa 21 giorni per avere un efficace ottimale e quindi per 62.000 vaccinati sono necessari 124.000 iniezioni. I primi richiami inizieranno dal 21 gennaio. La Liguria non è in ritardo sui vaccini, ha detto il presidente regionale Giovanni Totti, spiegando che la sanità si sta muovendo sulla base del numero di dosi ricevute, che al momento sono 15.920. Nella prima settimana è stato somministrato circa il 16% del totale e un altro 30% è conservato per avere già pronti i richiami da somministrare a partire dal 21esimo giorno dopo la prima dose. Ricordiamo che il numero di fiale consegnata ad ogni regione è tarato sulla base del numero di abitanti. Per entrare in regime con le 2.000 somministrazioni a livello regionale, da oggi sono impegnate circa 300 persone nella campagna di vaccinazione, 166 infermieri, 56 amministratori, 54 medici e 28 operatori sociosanitari. Ancora incertezze su come si procederà con la seconda fase di somministrazioni, ossia quando saranno estesi ad altre fasce di popolazione. Dovrebbero avere la precedenza gli anziani, probabilmente chi ha più di 80 anni. Molto dipenderà anche da probabili approvazioni di nuovi vaccini. Nei prossimi giorni, infatti, potrebbe essere la volta di quello prodotto dall'azienda moderna, che consentiranno di avere più dosi e forse renderanno necessarie più forze in campo e l'apertura di nuovi punti per le vaccinazioni.